ciao bentornato al programma tv di oggi con notizie come la showgirl uguale a madonna ha raccontato a tutti di essere stata tradita da ras de gan ecco chi è la famosa amante dopo tanti anni dalla loro separazione è stato rivelato il nome della donna con cui ras de gan ha tradito la sua ex compagna paola barale i due hanno formato una delle coppie più chiacchierate del nuovo millennio erano sempre sulle prime pagine di tutti i settimanali di gossip poiché la loro storia d'amore era ricca di passione ma allo stesso tempo molto turbolenta il grande pubblico si era appassionato alle vicende raccontate dai giornali ogni settimana veniva pubblicata un'indiscrezione riguardante la loro relazione per un periodo avevano anche scelto di vivere la relazione lontano dalle telecamere per poter trascorrere del tempo in viaggio senza elementi di disturbo ma la storia d'amore non è durata a lungo i due si erano conosciuti nel lontano 2002 rendendo la relazione ufficiale fino al 2008 da quel momento ci sono stati numerosi tira e molla ma nel 2015 è arrivata la notizia della loro rottura definitiva tramite un post della barale pubblicato sui social il legame sentimentale è naufragato a causa di una storia parallela dell'attore avuta nel 2009 durante il periodo delle riprese del film barbarossa nonostante il perdono momentaneo della barale il rapporto non è più tornato quello di un tempo perciò i due si sono allontanati definitivamente otto anni fa il rapporto con gli ex durante un'intervista nello studio di verissimo paola ha raccontato a silvia toffanin non sono amica con nessuno dei due riferendosi al rapporto attuale che ha con i suoi ex compagni gianni sperti e ras de gan quando mi chiedono in che rapporti siete non riesco a parlare di queste persone perché in realtà non le riconosco sono dei conoscenti con cui ho dei ricordi ormai sbiaditi in comune non li vedo e non li sento riferendosi sempre ad entrambi ha continuato con me si sono dimostrati allo stesso identico modo cioè due persone che non hanno avuto il coraggio di mostrarsi per quello che realmente sono non hanno avuto il coraggio di essere loro stessi io da un uomo ho bisogno soprattutto di verità di lealtà di complicità di comprensione parla della necessità di avere un rapporto sincero perché dall'ultima relazione ha subito un tradimento inaspettato l'amante di ras la conosciamo tutti la donna che si è inserita tra paola e ras è un'attrice che il modello e attore israeliano ha conosciuto sul set del film barbarossa stiamo parlando di casia smutniac nella trama del film i due interpretavano una giovane coppia di innamorati ma i paparazzi li hanno fotografati mentre avevano atteggiamenti molto intimi anche al di fuori del set fin dove arriva la finzione e dove inizia la realtà possiamo dire però che i due amanti non hanno portato avanti la loro relazione adulterina poiché la smutniac all'epoca era fidanzata con pietro taricone il quale aveva dichiarato di essersi dovuto legare le mani per non andare a cercare il rivale dopo la notizia del tradimento grazie per aver guardato le notizie di oggi metti mi piace e commenta nello specifico clicca iscriviti al canale per ricevere le ultime novità ciao e alla prossima newsletter ciao 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 ciao